ci hanno detto che sta per arrivare la befana per te e per ginevra anche la befana e non è tua mamma andiamo a vedere tua mamma che sta facendo a chi era veniva questa befana che ha detto mi raccomando sta per arrivare la befana cerca di non mangiarlo ok ci dobbiamo andare a pettinare ci mettiamo un fiocchettino che arriva la befana ci dobbiamo fare belle belle e andiamo apri la porta vai apri chi di la porta ma chiudere mai ciao i batti nel sole un pochino tieni e ti taglio le unghiette pratica questo ok aspetta ok prendi questo mamma ti togliamo siamo pronti è pronta tefana mi è di notte con le scarpe tutte tutte a me ma che giorni come vai perché non riesce di notte a portare tutti i regali quindi magari fa come mamma natale befana se non arrivi mangio tutto quanto io eh cosa il legno pu 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 pronto? Befana ma dove sei? Befana se vieni qui gli diamo un paio di scarpe così togli quelle scarpe rotte allora ha detto la befana che sta arrivando ok non è che si è perso no? ha detto che con la scopa ha avuto problemi perché dove abitiamo noi prende gps male eh? eh si e quindi ha avuto problemi è attaccata su una strada per un'altra perché gli dava un numero spiego sbagliato è stato il monte qui dietro il tempo che vale che il monte ed ecco la befana che viene però eh non viene di notte la befana viene di notte no la befana forse viene di notte la befana viene di notte con le scarpe tutte rotte non è vero viene di giorno la befana viene di giorno è arrivata la befana tutti i cani sono in allarme stanno abbagando andiamo a vedere che cosa sta succedendo che mi stanno un po spaventando onestamente sentendo un gran vociare dietro sentite che casino tranne lorenzo basta vedere la befana vediamo un po la reazione di genera e lorenzo quanta è brutta ma è proprio brutta è proprio brutta speriamo che non si spaventa speriamo che non si spaventa pure lorenzo chi è loro è la befana? è la befana? è la befana? è la befana mannaggia la miseria che tipo le fate questa befana? è arrivata dove è andata? non è nessuno no non è nessuno lori davvero sta tranquillo sta tranquillo rischiamo di perdere la befana per sempre devo controllare lorenzo perché potrebbe sbranarla in un sol boccone adesso non voglio dire niente ma erica è scomparsa da circa cinque minuti non so che fine abbia fatto vuoi vedere che la befana l'ha rapita e siamo rimasti di nuovo senza mamma e dovremmo incominciare a fare video tipo dove è finita mamma erica mamma erica sarà rapita la befana e cose del genere è attentissima guardate guardate dov'è? dove? dove è la befana? oh mio dove l'hai messa erica? erica dove l'hai messa? oh mamma mia mi fa paura a me oh mamma mia quanto è brutto buongiorno buongiorno io bene lei si si la vedo un po sta bene lei la vedo con un piede un po sono un pochino affaticata va bene venga con me venga lori fai il bravo beh fana non so come chiamarla penso di farcela ok è affaticata è stata da molti bambini è stato lungo un viaggio è stato lungo lo sapeva che io non mi ricordo di lei è venuto da me da piccolo no no ma forse sì sì non si ricorda nemmeno lei no l'età avanza eh a me pensavo di andare in pensione venga 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 si entra per di qua venga con me venga con me befana venga 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 erica forse è meglio che la prendi in braccio venga venga befana venga ah si si che becca mila eh si l'abbiamo fatto per suo marito ah per suo marito bella bimba chi è la befana? è la befana guarda è questa bimba ciao è la mia casa? è la befana? eh si? io ho già una cosina per te qua e lei che c'ha andiamo a vedere un po' che c'è per te nooo ma grazie befana grazie befana ti piace? si prendila vuoi prenderla è la tua prendila prendila ciao hai visto? questa nonnina è vecchia vecchia la tua nonnina dov'è? la mia nonnina è qui dietro le mie nonne sono qui dove sei la tua nonnina eh? io invece sono vecchia vecchia poverina nooo di befana ma per caso tutti quei scherzi li hai fatti tu a natale? no no sei sicura befana non dire bugie eh? perchè mi sembra che su un video abbiamo visto una mano di una donna no 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 vabbè sarà questo? ma questo è per lorenzo ah lorenzo e noi glielo diamo dopo grazie befana questo è per lorenzo questo è per ginevra eeeh guarda ma grazie befana mamma mia ma guarda che bella calza ti ha portato mamma mia quante cose guarda eeeh guarda grazie guarda ci sono i gattini qui wow guarda che bei gattini che ci sono maaa quante calze guarda wow ma ce n'è un'altra tieni non ti spaventare non succede niente mamma e fana quanti ce ne hai grazie ecco vuol dire che sei stata una brava bimba eeeh eeeh io vado va bene vado che devo ti possiamo accompagnare? aspetti aspetti befana l'accompagno alla porta che è un minimo eeeh questo è brava eh? eeeh io? si ah va bene no guarda questo eeeh ma non ti importa ciao ahhh 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 arrivederci grazie Befana arrivederci grazie mille per la compagnia mi raccomando non si perda con la scopa che la vedo un po' ridotta male la deve cambiare si si è impostato correttamente l'accompagna il cancello visto mai Lorenzo potrebbe lori mi raccomando lascia stare la Befana va via non gli fa niente devi andare dagli altri bambini ciao Befana ciao ciao ho fatto un video alla Befana ho fatto un video alla Befana fatto un video alla Befana ahhh la Befana ho fatto un video alla Befana potrebbe essere l'unico video su YouTube fatto una Befana Enzo com'è stata? ah ma già hai accompagnato la Befana? ma già già la Befana hai aperto la calza? no papà No, questo è uscito dalla calza, papà, io non ho aperto niente ancora, vederci, è per te questo, è per te questo, per chi è? Che cosa sarà? Ma da quando in quale abbiamo fatto la porta alle cose anche ai cani? No, non lo so, forse è stato talmente tanto bravo come Babbo Natale, si stanno sfidando, chi fa più regali a tutti, secondo me? Oh no, senti, ma è un pesce, è un pesce, buono il pesce, buono il pesce, ciao, addio E cosa hai a portare, i pesci? I pesciolini Era un pesciolino, non l'ho capito Ma sono tanti pesciolini essiccati, ma buzzano Ma questo era un pesciolino, ma dove è andata, la friggitoria a farlo Però gli piacciono, sicuramente gli piacciono A Befana porti i pesci secchi, dove sei visto mai? Ma scusa, se hai bambini porti i cioccolatini o i giochi, hai cani o hai gatti Porti i pesci dai cani È certo Mamma mia, sono tutte cose buone Molto buone queste cose qui Mamma queste te le metti da parte, che le mangerai nel 2027 Quando hanno la scadenza queste? Befana Ma io penso che lei già abbia fatto Guarda Ciao Mi ha preso uno e se ne va a dineta Ciao Mi ha preso uno e se lo mangia Perfetto Se lo nasconde Ciao Marta Bella, guarda 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 Quante monete Guarda quante monete Sono monete Tieni Poi prende Sono un po' fredde Ma c'è un'altra calza qui Guarda Che bel maglioncino questo Molto bello Fammi vedere un po' Ma com'è bello questo maglioncino Eh no, sono interessata ai cosi della kinder Papà come mi sa? Un po' grande, questa bellina Guarda che bellina Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Beganto Ma che cosa? Cos'è stato? Allora la Befana si è dimenticata qualcosa Non è la Befana? Ce ne so Che cosa? Ah, si Guarda si è dimenticata qualcosa Oh Si è dimenticata E che fa? Flash Abussa Questa dove va? Quindi le calze sono anche per me adulti Questa è la mia e questa è la tua Ma come fai a saperlo? Si è scritto il nome Erika Eccolo Antonio Sono stata cattiva Ecco, brava E' una cosa che ho fatto di male Ma è brava questa Befana Ah beh Nella sera rilassante Che pensa che sono mezza Non lo so Insomma queste che possono essere pericolosissime Per lei, capito? Sono belle Troppo piccole Sì, sì Sì, è stato di martenza Ci vai Che è sto a fare? Prodotto in Italia Ma che cosa? Trinchetto Un zucco di frutta Non male Ah buono questo Mentre la birra Meno male che ce n'erano due Ma ce ne fai due? Si Com'è questo? Non vuoi? Calzini Che fanno sempre comodo E un altro zucco di frutta E un altro zucco di frutta E indovinate un po' Un altro zucco di frutta? No, caramelle No, aspetta, aspetta un po' Un altro zucco di frutta Ah 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 Lui lei è il cane Vita la dò Fermi Ah 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 I feel that sweet In the end of summer Feel that heat Oh Ah 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 ah